Dalla fase sperimentale ad un progetto consolidato è l'odontoiatria sociale che si struttura definitivamente nell'ambito dell'asla toscana sud-est. Un progetto complesso e articolato per l'erogazione di quelle prestazioni odontoiatriche rivolte al maggior numero di utenti con particolare attenzione ai cosiddetti soggetti fragili. Il progetto è iniziato nel 2014 con una delibera della regione toscana e voleva provare a misurare la necessità di interventi odontoriatrici nella cittadinanza, soprattutto nei soggetti più fragili. A chi è rivolto essenzialmente? È rivolto ai bambini, agli anziani, alle donne in gravidanza, ai malati, soprattutto oncologici e a tutti quei soggetti che per appartenenza a strati sociali più fragili o a difficoltà economiche per accedere alla pur diffusa odontoiatria privata si trovavano in difficoltà e non potevano accedere alle più elementari anche cure odontoiatriche. Tre anni di progetto ci ha fatto vedere che questa era un'intuizione vincente e la direzione generale ha deciso di trasformare la prima parte triennale di sperimentazione in un sistema di salute messo al regime. I dati scientifici oggi dimostrano che c'è una relazione bilaterale fra la salute del cavo orale e alcune patologie, sia perché la salute del cavo orale può influenzare negativamente se non c'è salute del cavo orale la cura e l'andamento di patologie importanti, pensate per esempio al diabete, sia perché invece l'utilizzo di farmaci, specialmente farmaci molto utili e molto importanti oggi come alcuni farmaci biologici, possono però avere effetti molto pesanti sulla salute del cavo orale. Tutto questo deve essere conosciuto dai medici, deve essere patrimonio sia dei medici di medicinare che degli specialisti per cui su questo faremo formazione. Sui cittadini noi invece possiamo fare informazione ed educazione proprio in quest'ottica di prevenzione proprio sulla salute del cavo orale.